Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Prima di incominciare vi chiedo di mettere un bel like a questo video perché ci aiuterebbe tanto a far crescere questo canale. Allora, oggi è un vlog un po' particolare, in realtà sono due mini vlog. Nel primo vi porterò a Pignataro Maggiore a tifare per gli Strange Acoustic Trio che sono dei miei amici, sono bravissimi, sono ai debutti praticamente e peccato che non vi posso far sentire la loro bravura però lascerò il link in descrizione della loro pagina Facebook, sono davvero molto bravi. Il secondo mini vlog riguarda una serata fatta dai glu glu. Ovviamente ci sono tutti retroscena, un po' di così, che abbiamo portato con noi. E questo è Buona Visione! Nuvoloni all'orizzonte! Noi sfidiamo le forze della natura! Andremo a vedere i nostri amici! Siamo pronti, stiamo andando a tifare per i nostri amici Lorena, Antonio e Cesare. Si esibirà una Pignataro Maggiore, qui abbiamo, quindi mi piace tutto il buratore, però non ci apriamo! Vedete i miei ragazzuoli emozionati pronti! Inclusivate il per il motivo di noi Grazie, grazie a tutti i trattori. Grazie a tutti i trattori. Grazie a tutti per averci seguiti, spero di sentirci presto e grazie a Dominga per averci seguito tutta la serata. Sembra grande. Grazie a tutti i trattori. Stiamo andando ad aiutare le griguine per montare le luci per fare una festa, quindi ci vediamo dopo. Dopo tre giorni rieccoci, quindi lo faremo tutti in un unico vlog. Sì comincia a salire. Sì. 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 Stavo facendo il cerco. Aspetta questa serata. Tutto bene, tutto bene. Sì. 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 La festa è partita, vai. Vuoi mangiare? Sì. Sì Giuseppe, che fai? Guarda qui Questa? Guarda qui, guarda qui 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 attivate la campanella e fateci tanta pubblicità, vi vedo che è molto importante per noi per far crescere i nostri progetti. Alla prossima!